bravura l'abbia portato in prima linea quando magari doveva stare in seconda linea, però è stata un'esperienza piacevole dal punto di vista umano, quindi anch'io lo ringrazio anche per la collaborazione, in effetti abbiamo avuto modo di confrontarci su diversi aspetti e mi ha supportato nella mia opera di consigliere e capogruppo di opposizione, quindi molte grazie e ripeto, non vedo l'ora di poter fare la festa, ma la festa intesa con allegria e non in altro senso. Grazie ancora, buona serata. Emanuele Ferrari? No, no, guarda, per stare anche seduto. Io voglio solo ricordare una cosa che mi ha detto Matteo quando ho cominciato questo percorso e devo dire che è una delle cose in assoluto che mi ha insegnato di più a vivere questo ruolo come una forma altissima di servizio. Io ho sempre pensato che Matteo sia una persona con una altissima capacità razionale e di organizzare il pensiero e trasformarlo in progetti, in concretezza, ma la prima cosa che mi ha detto quando io sono arrivato qua, mi ricordo in maniera quasi paterna, mi ha detto ricordati che questo è un luogo vivo. Cioè è un luogo dove, sì, tu puoi programmare finché vuoi, puoi costruire tutte le tue visioni, però devi sempre ricordarti che tutto può capitare in un attimo e cambiare, cambiare di segno. Devi essere pronto all'inatteso, devi essere sempre pronto a ricucire. E siccome anche da un punto di vista esistenziale, a un certo punto della mia vita, io mi sono trovato a ricucire e anche in quel momento lì, con il suo silenzio operoso, Matteo mi è stato vicino. Quindi io lo ringrazio, ma con lui credo che lo possano ringraziare tantissime persone che in un qualche modo hanno potuto interpretare il servizio dell'amministratore pubblico segnato da questa idea appunto di disponibilità, di capacità di ricominciare sempre da capo, di superare anche i conflitti, che a volte i conflitti sono fondamentali perché se no non si va avanti, ma soprattutto questa idea che questo è un luogo fatto di persone e ognuno si porta dietro la sua storia e essere testimoni di questa storia, accogliere queste storie è la cosa più importante che possa fare un amministratore pubblico. Grazie. 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 Quindi riprendiamo i lavori del Consiglio. Continuiamo i lavori del Consiglio Comunale.